Sei in via generale Turba, dove furono assassinati Piola Torre e Rosario Di Salvo. Piola Torre era il segretario regionale del Partito Comunista Italiano, era impegnato sul fronte della lotta alla mafia e contro l'installazione dei missili cruise a Comiso. È la mattina del 30 aprile 1982. Piola Torre e il suo uomo di fiducia, Rosario Di Salvo, si stanno recando alla sede del PC, poco distante da qui. In quadra di fronte a te, fra la lapide e la strada. Sono le 9.20 del mattino. La Torre e Di Salvo vengono suicidati senza piedi. Ancora due vittime della mafia in Sicilia. Questa mattina a Palermo sono stati assassinati in un agguato tipicamente mafioso, l'onorevole Piola Torre, 54 anni, sposato con due figli, segretario regionale del Partito Comunista ed il suo autista, Rosario Di Salvo. I malviventi sono entrati in azione poco dopo le 9, non lontano dalla sede del Comitato Regionale Comunista. Una moto di grossa cilindrata taglia la strada alla vettura su cui viaggia l'esponente comunista. La manovra costringe l'autista a frenare bruscamente. Solo pochi anni e gli assassini, a un aritmo scura, sparano contro Piola Torre e Rosario Di Salvo. Il segretario regionale comunista si accascia, ormai senza vita, sulle gambe del suo autista, che nonostante sia ormai ferito, tenta di reagire e fa fuoco con la sua pistola contro gli aggressori. Ma avviene presto sopraffatto. Incredulità e sgomento le prime reazioni. Esponenti di tutti i partiti raggiungono il luogo dell'eccidio per rendere omaggio alle due vittime. Sono in molti a chiedersi perché Piola Torre. Piola Torre nasce a Palermo il 24 dicembre del 1927 da una famiglia di poveri braccianti. Ancora adolescente si iscrive al Partito Comunista Italiano negli anni delle lotte contadine. Un impegno che lo porta ad affrontare l'infamia del carcere quando nel 1950 viene arrestato, portato a Lucerdone e falsamente accusato di aggressione durante l'occupazione di un feudo a Bisacquino. Dopo 17 mesi viene assolto e scarcerato. Inizia per la Torre una carriera politica che lo porta a diventare deputato nazionale. Da parlamentare nel 1976 redige la relazione della commissione antimafia che accusa Giovanni Gioia, Vito Ciancimino e Salvo Lima di avere rapporti con la mafia. Nel 1980 redige la legge Rognoni-La Torre, una legge innovativa che introduce nel codice penale il reato di associazione di tipo mafioso e la conseguente confisca dei beni alle organizzazioni criminali. Tale legge, tuttavia, sarà approvata soltanto dopo la sua morte e quella del generale Carlo Alberto dalla Chiesa nel settembre 1982. Stretto collaboratore di Enrico Berlinguer, La Torre diventa segretario del Partito Comunista in Sicilia nel 1981. Qui organizza una storica marcia contro la costruzione della base militare di Comiso, contribuendo al più grande movimento pacifista della storia europea. La mafia lo uccide il 30 aprile 1982 a Palermo, insieme a Rosario di Salve. Al suo funerale partecipano più di 100.000 persone. Torre dedica tutta la sua vita al riscatto della sua terra, del suo popolo e nell'affermazione dei principi della democrazia e dei diritti costituzionali. È stato assassinato da un gruppo di killer della criminalità organizzata di stampo mafioso. I giudici hanno accertato che i mandanti di quel gruppo di fuoco fosse la cupola di Cosa Nostra, ma allo stesso tempo ritengono che non ci siano state le condizioni per approfondire alcuni aspetti emersi di una complessità che andava ben oltre la legge che porta il suo nome, la Rognoni La Torre, che introduce il reato di associazione mafiosa, del codice penale, il famoso 416 bis. Accanto a questo, un elemento che ha contribuito alla decisione di ucciderlo, scenari più ampi. Mio padre era ritenuto una spia di Mosca. Dall'inizio degli anni 60 circa fu osservato dai servizi segreti italiani. Un secondo scenario, l'impegno pacifista contro l'installazione dei missili nucleari a Comis. I ricordi di quei giorni sono pochi, confusi e terribili. Un'esperienza che si cerca di dimenticare ma non si riesce a sotterrare. In questi 33 anni che ci separano dalla sua morte ho avuto modo di incontrare, stringere le mani, abbracciare tanta gente. Mi hanno confermato un dato che mio padre passava la sua giornata a contatto con quelle persone di cui cercava di affrontare nel tentativo di risolvere i problemi. Quella che lui chiamava la politica, il più bel mestiere del mondo. Ho numerosi ricordi di mio padre. Avevo da poco compiuto 18 anni, mi ero innamorato di una ragazza e avevamo deciso che ci volevamo sposare. Il mio padre mi disse ma come pensi di mantenere la famiglia? Cercherò un lavoro. Mi vede nuovamente di fronte a mio padre felice e gli dico papà, lo sai che forse ho trovato un lavoro? Che lavoro hai trovato? Dice ma mi hanno offerto una collaborazione al Formez. Il Formez era l'istituto di formazione e di ricerca della Cassa del Mezzogiorno. Ma tu sei pazzo, mi disse, ma io sto facendo la battaglia per chiudere la Cassa del Mezzogiorno e tu vuoi andare a lavorare al Formez? Si chiuse lì la vicenda. Mi piace ricordare di mio padre un altro piccolo episodio. Un giorno mi chiese ma tu lo sai perché ti abbiamo chiamato Franco? Io dissi perché nonno si chiamava Francesco e lui disse no. Quello che ci ha convinto di chiamarti Franco è stato che Franco significa uomo linda, affrancato dalla schiavitù. Beh, ero particolarmente contento. Amavo molto mio nonno, ero orgoglioso di portare il suo stesso nome ma che fosse coinciso anche con questo significato. Incessante per tutto il giorno il triste pellegrinaggio di esponenti politici di tutti i partiti alla Camera Ardente allestita nella sede del Comitato Regionale Comunista nella quale sono stati composti i corpi senza vita dell'On. Pio Lattorre e del suo autista Rosario Di Salvo. Più tardi è giunto a Palermo il Ministro degli Interni Rognoni. Si è subito recato alla sede del Comitato Regionale Comunista. Ha qui sostato per lunghi minuti in commosso raccoglimento, e quindi ha raggiunto la prefettura dove ha preseduto un vertice al quale hanno partecipato il capo della polizia Coronas, il generale Carlo Alberto Dallachiesa, nuovo prefetto di Palermo Dallachiesa, avrebbe dovuto insediarsi il 6 maggio, alti ufficiali dei carabinieri. Per imporre una politica di programmazione democratica a livello nazionale ed europeo. Terzo, per liberare la Sicilia dal sistema di potere mafioso. Quarto, per il nuovimento democratico della Regione, il decentramento dei poteri e la piena attuazione dello Statuto Siciliano. Affermiamo cioè che la battaglia per la pace è contrimissima. Per un piano a Regione di Sistema Economica e Sociale, l'emigrazione tumultuosa degli anni 50 e 60 ha svuotato la società siciliana delle energie migliori, fisiche e intellettuali. Si è sabotato l'attuazione dello Statuto e il passaggio dei poteri dallo Stato alla Regione. E' avvenuto con contagi obiettivi dello sviluppo economico, civile e democratico della nostra isola. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.